La Rosa dell'Istria, innanzitutto ti chiedo cosa sapevi prima di questa vicenda degli isoli istriani oppure qualcosa che hai appreso comunque con la lavorazione di questo film? Beh, per motivi familiari io sono abbastanza addentro alla storia della Seconda Guerra Mondiale e sapevo poco, mi sono accorto, credevo di sapere, ma in realtà sapevo poco dello svolgimento di tutto quello che è successo, per cui questo film è stata occasione per sapere di più per parlare anche con i discendenti di esoli, che è stata una cosa fondamentale. Senti, cosa ti ha colpito di più del tuo personaggio, cioè di questo papà insomma Antonio? Beh, diciamo le cose che hanno risuonato di più sicuramente sono quelle che risuonano anche nel mio essere padre in questo momento io ho una figlia, non ha la stessa età della protagonista, però questo suo voler proteggere la famiglia questa sua umanità, no? Si trova anche nella tragedia della guerra a dover affrontare una figlia che cresce che scopre se stessa, che ha delle aspirazioni diverse da quelle che lui si aspetta per cui questa lotta con se stesso, con le condizioni esterne e con la figlia me l'hanno fatto amare ancora di più. Senti, c'è una frase nel film TV che mi ha molto colpito quando si dice che senso ha essere vivi se poi il mondo ci dimentica? Siamo una nazione che magari cancella troppo in fretta. Da questo punto di vista il revisionismo storico può essere un pericolo secondo te anche? Allora sì, assolutamente sì, diciamo che il revisionismo però è anche parte del meccanismo di come si racconta la storia cioè quando è fatto bene con la verifica delle fonti anche permette di avanzare nella comprensione del passato per cui non è che sia sempre un male. È un male quando diventa un revisionismo al servizio di una bandiera quando dice le cose sono così perché i nostri nemici, quando comincia a fare noi, voi, quello è un problema ed è un problema che cancella la memoria, cancella il sacrificio, la sofferenza di chi ha sofferto davvero. Certo fa effetto che dopo tanti anni comunque ancora la storia si ripete, no? Anche oggi ci stanno comunque la guerra, gli ucraini, insomma i russi, quindi ecco non è cambiato nulla comunque a distanza di tanti anni le guerre ci sono ancora. Sì, noi, mio padre diceva sempre, speravamo che finita questa guerra fosse finita del tutto e invece no, l'abbiamo visto e adesso l'abbiamo proprio alle porte di nuovo come tante volte e di nuovo vediamo esuli e di nuovo vediamo sofferenze, di nuovo vediamo famiglie smembrate sembra che ci sia una specie di circuito vizioso, no? e non c'è rimedio a volte, l'unica roba che sembra in qualche modo rimediare a questo è quando gli esseri umani si mettono a un tavolo a parlare, a discutere delle differenze a raccontarsi anche le differenti storie e a trovare una via di mezzo, un accordo. Perfetto, grazie mille. Grazie a tutti